Da lunedì al venerdì! Allora, prendete tutto il vostro libro e apritelo a pagina 152. Psst, Joe! Intanto fa due chiacchiere con me. Voglio scoprire tutto sui nuovi episodi. Cioè, metti che lo aiuti male? Oppure quello che fai non funziona. Oppure funziona ma non come pensavi tu. Magari non come pensava lui. No, non ho capito niente. Ti prego, ripetimi tutto prima che il pro... Basta! Sentiamo un po' che indovina di che cosa sto parlando. Forse dei nuovi episodi di Chiamatemi Joe. Da lunedì al venerdì alle 20.10 a Disney Channel. Grazie a tutti!